E do invece volentieri la parola al relatore che nel programma mi segue e che fra l'altro quindi spero ci possa dare un po' di dettagli e di raguagli proprio su alcune delle questioni che riguardano la sicurezza con riferimento anche all'allegato O. Il relatore è Mauro Giuseppe Todeschini, sempre di RSE, l'aleato in informatica presso l'Università di Studi di Milano nel 2008, si è occupato di progettazione e sviluppo di reti informatiche e servizi in internet. Dopo la laurea ha messo a frutto questa esperienza in reti e protocolli e si è interessato molto alla realtà virtuale per l'industria del telerilevamento e dal 2017, diciamo, è il ricercatore presso RSE dove si occupa di applicare e valutare le soluzioni di sicurezza previste dagli standard di riferimento sui protocolli. Io non ho il piacere di conoscere personalmente il dottor Tolestini ma ne ho sicuramente sentito parlare e so che è molto attivo in tantissimi gruppi di lavoro e sono sicuro che la sua relazione sarà di grandissimo interesse. Va bene, comunque io ringrazio della presentazione il dottor Pilo, il professor Pilo, e anche di Sardegna Ricerca per l'opportunità che ci è stata offerta e dico subito che in questa presentazione parlerò della sicurezza delle comunicazioni nei sistemi di controllo. Vedremo molto ad alto livello come avviene il controllo remoto delle risorse di generazione distribuita mediante protocolli di comunicazione specifici. Vedremo come la comunicazione di controllo e monitoraggio possa essere oggetto di attacchi informatici e faremo alcuni esempi di come si possono condurre questi attacchi. Vedremo come esistono soluzioni di sicurezza che permettono di proteggere le comunicazioni di controllo e monitoraggio da questi attacchi informatici e che esistono standard che le definiscono. Indicheremo infine quali possono essere gli ostacoli all'adozione di queste soluzioni di sicurezza e come si possa superarli. E' già stato detto precedentemente, scusate che volevo avanzare la presentazione, se riesco... Un attimo... Non riesco ad avanzare... Vediamo se riesco così... Eh, non riesco. Faccio così, vado direttamente... Vado direttamente a mano sulle slide. Il sistema elettrico, come abbiamo detto, sta subendo delle trasformazioni perché da... Diciamo che c'è sempre una crescente domanda di energia elettrica e c'è sempre la necessità di soddisfarla rispettando i vincoli ambientali sempre più stringenti. In questo senso vengono quindi favorite le fonti energetiche rinnovabili e pulite alle più inquinanti fonte basate su combustibili fossili. La trasformazione consiste nel fatto che gli impianti di produzione energetica basati su fonti rinnovabili sono in genere di dimensioni inferiori rispetto a quelle tradizionali e quindi c'è la necessità di aggiungerne in numero significativamente superiore alla rete elettrica. A questo si aggiunge che le fonti rinnovabili sono più imprevedibili rispetto a quelle tradizionali. Si può pensare al fatto, ad esempio, che la produzione energetica di un impianto solare dipende dalle condizioni meteo, ossia dalla presenza o meno di fronti nuvolosi che possono ridurre anche significativamente la produzione di energia. E lo stesso avviene per le fonti basate, ad esempio, sull'energia eolica. Di fatto, però, il sistema elettrico richiede efficienza e stabilità. Devo poter garantire energia ai clienti e devo poter garantire che il sistema elettrico mantenga la stabilità, quindi non avvengano disconnessioni o, diciamo, guasti. Per questo, con l'introduzione della generazione rinnovabile, è sempre più necessario attuare sistemi di telecontrollo che permettano di coordinare e di monitorare istantaneamente la produzione di energia e reagire istantaneamente a variazioni in modo che si possa mantenere la stabilità del sistema e, diciamo, il servizio per gli utenti. Ecco come può avvenire il telecontrollo. Questo in forma molto, molto semplificata. L'impianto di generazione, in questo caso, ad esempio, l'impianto solare, invia periodicamente delle misure elettriche ad un centro di controllo riguardo alle grandezze fisiche, ad esempio, riguardo all'energia elettrica che viene immessa in rete elettrica e il centro di controllo monitora queste misure elettriche e può indicare alla risorsa di generazione se attuare delle variazioni tramite l'invio di set point che indicano alla risorsa di generazione se deve, ad esempio, ridurre l'immissione in rete elettrica di energia. Come fa la risorsa di generazione a comunicare con il centro di controllo? Può farlo tramite degli specifici protocolli di comunicazione. In questa slide, nella parte alta, ne ho indicati alcuni, come ad esempio il protocollo IEC 61850 che è già stato citato nel caso del controllore centrale di impianto nella presentazione precedente alla mia, oppure il protocollo 60870 che sono protocolli specifici per l'ambito elettrico. In questa slide ho indicato anche un protocollo che tutti penso conosciamo che è il protocollo HTTP che è allo stesso livello di questi protocolli e che ci permette la navigazione in internet. I protocolli sono tradizionalmente organizzati in livelli sulla base dei quali protocolli di livello superiore utilizzano i servizi dei protocolli di livello immediatamente inferiore per fornire le proprie funzionalità. In questa slide vi faccio vedere che i livelli più importanti sono il livello fisico, il livello rete, il livello trasporto, il livello applicazione e ho citato a fianco alcuni dei protocolli più conosciuti di questi livelli. I protocolli TCP e IP sono i protocolli di base di internet, mentre Ethernet e Wi-Fi sono i protocolli che ci permettono di creare le reti locali a livello domestico, anche a livello aziendale. Quello che succede nella pratica in realtà è che su un canale di comunicazione vengono inviati dei pacchetti e all'interno di ognuno di questi pacchetti questi protocolli sono incapsulati l'uno dell'altro. In particolare all'interno di un pacchetto di livello fisico sono incapsulati i dati del protocollo di livello rete il quale a sua volta incapsula i dati del protocollo di livello trasporto che incapsula i dati del livello applicazione che nel caso dei protocolli utilizzati nel sistema elettrico possono essere le misure o i set point di cui abbiamo parlato nella slide precedente. Qual è il problema di questo sistema? Il problema è che in realtà non dobbiamo pensare al canale di comunicazione come se fosse un cavo elettrico, un cavo di comunicazione che congiunge direttamente la risorsa di generazione al centro di controllo ma in realtà più come a una serie di canali di comunicazione che sono congiunti tramite delle apparecchiature di cui un hacker o un malintenzionato può entrare in controllo tramite degli attacchi specifici. Ad esempio si può pensare a virus oppure ad esempio ad un'utilizzo di password mal configurate o anche altri attacchi più evoluti. Si parla in questo caso di attacco man in the middle perché l'hacker agisce all'interno della comunicazione cioè sul canale di comunicazione nel mezzo della comunicazione. E cosa può fare? Può ad esempio, come vediamo nell'esempio riportato può modificare i set point che il centro di controllo invia alla risorsa di generazione e in questo caso vediamo come il centro di controllo richiederebbe una diminuzione di energia immessa in rete mentre le hacker, agendo, modificando questo dato modificano queste richieste in un aumento dell'immissione in rete di energia. Questo perché può avvenire? Perché la risorsa di generazione non è in grado di sapere in un attacco di questo genere con chi sta comunicando. La risorsa di generazione pensa di comunicare con il centro di controllo mentre i dati gli vengono inviati nella realtà dall'hacker. Fortunatamente però esistono delle soluzioni a questi tipi di attacchi. Anzi, esistono addirittura degli standard che ci permettono di che definiscono quali soluzioni possono essere applicate specificamente all'ambito elettrico. Ad esempio, lo standard IEC 6.2.3.5.1 è specificamente orientato all'ambito elettrico e indica le soluzioni ai diversi livelli di cui abbiamo parlato. Ad esempio, la parte 5 e la parte 4 che indico qui che vedete qui in figura si riferiscono specificamente ai protocolli 61.850 e 60.870 che abbiamo citato precedentemente e queste due parti fanno riferimento alla parte 3 che si occupa specificamente del livello trasporto, della sicurezza a livello trasporto. E cosa suggerisce la parte 3? Suggerisce l'utilizzo del protocollo TLS di cui parleremo nel resto della presentazione che sarà principalmente incentrata su questo protocollo. Non è l'unica soluzione di sicurezza esistente, esistono altre soluzioni a tutti i livelli. In figura abbiamo indicato come, ad esempio, le VPN di cui magari avrete sentito parlare, ossia le Virtual Private Network, si chiamano soluzioni di sicurezza che lavora a livello rete, mentre le VLAN segregano, le Virtual LAN sarebbero, segregano il traffico a livello fisico, cioè a livello di switch di rete. Come fa? Abbiamo detto che parleremo principalmente della sicurezza a livello trasporto e quindi TLS. Cos'è di fatto TLS? TLS è anche esso un protocollo che, come dice il nome, ossia Transport Layer Security, lavora a livello trasporto. Ossia si può pensare che si possa inserire esattamente sopra il livello trasporto e per via del fatto che i protocolli sono incapsulati gli uni negli altri e il protocollo di livello superiore è incapsulato nel livello inferiore, il protocollo TLS protegge principalmente le informazioni del livello applicazione che nel caso dei protocolli del sistema elettrico possono essere proprio le misure e i set point che noi vogliamo andare a proteggere. Ovviamente in un protocollo del sistema elettrico non passano solo queste informazioni, ne passano anche altre, però passano anche queste informazioni. Quali sono i benefici dell'applicazione di TLS? Li possiamo sintetizzare in tre punti principali. TLS fornisce tre funzionalità principali di sicurezza. La prima, che chiamiamo autenticazione, permette alle due parti in comunicazione di identificare, cioè di essere sicura di interagire con l'altra parte. Ossia la risorsa di generazione è sicura di interagire con il centro di controllo e allo stesso tempo il centro di controllo è sicuro di colloquiare con la risorsa di generazione. Vedremo più in dettaglio nella prossima slide come questo possa avvenire. Altri benefici sono la confidenzialità delle informazioni, ossia i dati trasmessi a livello applicativo sono interpretabili solo dalle due parti in comunicazione, ossia le misure sono inviate dalla risorsa di generazione e sono interpretabili solo dal centro di controllo e allo stesso modo i set point sono interpretabili solo dalla risorsa di generazione. L'ECA come potete vedere non è in grado di capire, di leggere o di modificare quello che viene diciamo trasmesso in rete mentre transita. Un'altra funzionalità importante è la funzionalità di integrità, cioè la risorsa di generazione, nell'esempio che abbiamo fatto, è in grado di capire se qualcuno si intromette nella comunicazione e quindi di capire se non sta con i dati e gli arrivano non specificamente dal centro di controllo ma da un soggetto terzo. Come funziona l'autenticazione offerta dal TLS? Funziona grazie al fatto che le due parti all'inizio della comunicazione, una fase iniziale in cui si stabilisce la comunicazione, si scambiano dei certificati digitali, che altro non sono, che sono dei documenti diciamo che contengono delle informazioni che sono rilevanti per la comunicazione, in particolare contengono l'identità del soggetto che invia il certificato, ad esempio il centro di controllo dice io sono il centro di controllo e la risorsa di generazione dice io sono il risorsa di generazione e poi vengono contenuti altri dati fondamentali come la chiave criptografica pubblica che è utilizzata per la comunicazione, che rende quindi le comunicazioni confidenziali e una firma digitale. Perché c'è una firma digitale? Perché in realtà io non sono, cioè potrei pensare che il certificato digitale inviato dall'altra fase possa essere un certificato falso, cioè un certificato che contenga informazioni non veritiere. In realtà io posso essere sicuro invece che il certificato digitale contiene informazioni veritiere perché esiste un ente terzo, una società terza che si chiama Certification Authority che appone la firma digitale del suo certificato perché verifica quelle informazioni e appone questa firma digitale che è praticamente impossibile falsificare. Per cui quando io vedo questa firma digitale so che la Certification Authority ha verificato questa informazione quindi sono sicuro di comunicare con l'altra parte, cioè il centro di controllo sa che comunica con la risorsa di generazione mentre la risorsa di generazione sa che comunica con il centro di controllo. Cosa fa di fatto uno standard di sicurezza come lo standard AISI 6.2351? Di fatto definisce i parametri di sicurezza delle comunicazioni TLS che sono adeguati per l'ambito elettrico. TLS non è un protocollo specifico per l'ambito elettrico, è utilizzato ad esempio anche nelle comunicazioni via internet. Ad esempio quando vediamo un indirizzo HTTPS non è altro che un indirizzo o una comunicazione del protocollo HTTP resa sicura dell'applicazione di TLS, è come dire un HTTP sicuro. Quindi TLS non è specifico per l'ambito elettrico, è un protocollo già preesistente, già consolidato che può essere utilizzato anche in ambito elettrico a patto di andare a specificare i livelli di sicurezza che noi vogliamo raggiungere. Ad esempio il protocollo IEC 6.2.3.5.1 specifica alcuni parametri come ad esempio la lunghezza delle chiavi criptografiche che sono adatti per l'ambito elettrico. Ad esempio lo standard definisce che si consiglia l'utilizzo di chiavi di lunghezza di almeno 2048 bit anche se lo standard permette ad esempio le comunicazioni anche con chiavi più corte per motivi di compatibilità con dispositivi più datati. E soprattutto lo standard definisce quali sono le cipher suite da utilizzare. Cos'è una cipher suite? Di fatto è un insieme di algoritmi criptografici che possono essere utilizzati nella comunicazione. Nel nome della cipher suite che è quello che riportano sulla sinistra della slide sono contenuti i nomi dei tre algoritmi fondamentali che sono l'algoritmo di scambio delle chiavi di criptografia e di firma digitale sostanzialmente. Ora in questa slide riporto i risultati di un nostro lavoro di un lavoro che abbiamo fatto riguardo alla sicurezza del protocollo IEC 6870 504 e vi indico sostanzialmente il perché TLS uno dei motivi per cui TLS seppur abbia questi vantaggi di cui ho parlato precedentemente possa non essere ancora applicato estesamente. Perché di fatto TLS ha un impatto sulle performance delle comunicazioni ossia sul tempo necessario per inviare i dati e le comunicazioni tra le due parti in comunicazione. In questo slide possiamo vedere come l'applicazione del TLS impatti sulla fase di creazione della connessione sicura cioè sulla fase iniziale della comunicazione. Devo premettere innanzitutto che quando non si usa TLS cioè quando non si usa la sicurezza il tempo necessario per stabilire questa sessione nel caso del nostro ambiente di laboratorio che comprende apparecchiature piuttosto performanti impiega circa un millisecondo. Quando invece utilizzo le comunicazioni TLS quindi lo scambio di certificati la fase iniziale di creazione delle chiavi criptografiche questo tempo può salire addirittura a oltre 400 millisecondi nel caso di chiavi criptografiche molto grandi come chiavi da 8192 bit oppure ma comunque i tempi sono comunque alti anche nel caso di utilizzo di chiavi di dimensione minore o comunque sono tempi superiori o attorno ai 200 millisecondi. Cosa influisce particolarmente questo tempo? Come si può vedere nelle due cipher suite rappresentate più alla DET l'aspetto che influisce maggiormente è l'algoritmo di scambio delle chiavi ossia la prima parte del nome infatti si può vedere come le cipher suite più alla destra condividano lo stesso algoritmo di scambio delle chiavi quello che è indicato con il nome TLS CDH e RSA e lo stesso avviene anche in altre cipher suite riportate in questa slide. però la situazione non è così drammatica come potrebbe apparire da questa slide cioè non è che l'applicazione di TLS comporti tempi, latenze nell'ordine di 400 volte superiori perché questo avviene solo all'inizio della creazione della sessione. Una sessione viene creata e poi può rimanere attiva per diverse ore per cui perdere utilizzare 400 millisecondi in più ogni diverse ore non è così drammatico perché infatti come si può vedere in questa slide si può vedere che nel caso dell'invio delle misure le performance del le performance dell'utilizzo in caso di connessione che utilizzino TLS o quindi la sicurezza a livello del trasporto e nel caso di non utilizzo di TLS sono paragonabili quindi ogni sequenza di 5 barrette la quinta riguarda le connessioni che non usano TLS si può vedere come nel caso dell'invio di misure cioè il grafico superiore il tempo necessario per inviare un set di misure nel nostro laboratorio sia attorno ai 0,8 millisecondi nel caso invece di utilizzo di TLS ossia le prime 4 barrette di ogni cypher suite invece il tempo è intorno ai 0,9 millisecondi massimo 1 millisecondo quindi diciamo l'aggravio di prestazioni è veramente minimo in questo caso diciamo che penso di essere arrivato alla fine della mia presentazione tiro le somme di quello che ho detto finora gli attacchi informatici sono a questo punto un rischio concreto per il sistema elettrico si sono già verificati diversi attacchi che sono stati specificamente orientati al sistema elettrico però abbiamo visto che esistono sia standard sia soluzioni che sono peraltro indicate negli standard che indicano come si possa migliorare la cyber security a tutti i livelli a tutti i livelli protocollari ho parlato di TLS perché con il TLS si può iniziare a parlare di sicurezza end to end a livello trasporto ossia sicurezza che è gestita dalle due parti in comunicazione e quindi possono essere sicure possono proteggersi da una qualsiasi terza parte che voglia entrare intromettersi in questa comunicazione questa proprietà non è necessariamente vera ai livelli inferiori nelle soluzioni dei livelli inferiori per i protocolli di livello inferiore che in ogni caso comunque è opportuno utilizzare perché comunque le soluzioni che ho indicato nella parte destra di questa slide possono essere utilizzate in combinazione per ottenere un livello di sicurezza ancora superiore si può pensare addirittura anzi lo standard definisce soluzioni per il livello per i livelli superiori dello stack protocollare quindi soluzioni che possono essere applicate a livello applicativo che hanno il beneficio di essere ancora più granulari e quindi di poter andare a specificare con più precisione quale soluzione quali algoritmi di criptografia utilizzare e che dati andare a proteggere e quindi diciamo hanno questo ulteriore beneficio però di fatto qual è un po' il limite però il freno all'applicazione di queste soluzioni è un po' il fatto che TLS è una soluzione che già esiste è già consolidata è già molto utilizzata anche in protocolli diversi dell'ambito elettrico per cui è più facile è più immediato applicarla nel caso delle soluzioni a livello applicativo sarà necessario probabilmente un tempo maggiore perché sarà necessario svilupparle specificamente quello che voglio dire per chiudere questa presentazione è sostanzialmente che a questo punto è necessario che chiunque nel settore sia i produttori di dispositivi sia le utility sia i proprietari di impianti di generazione prevedono la sicurezza a livello di progettazione e non come una soluzione che debba essere aggiunta solo quando diciamo si verifica un'emergenza e solo in quel momento perché in quel momento potrebbe non essere facile i sistemi potrebbero non riuscire a prevedere la solo introduzione di soluzioni di sicurezza adeguate diciamo che io con questo penso di aver finito la mia presentazione mi dispiace del problema tecnico che non sarà verificato finora però vi lascio il mio indirizzo di posta elettronica se mi voleste contattare e anche alcuni riferimenti a diciamo dei lavori che abbiamo fatto e abbiamo pubblicato su gli argomenti che ho trattato in questa presentazione e abbiamo presentato in conferenze recenti diciamo grazie a tutti e mi spiace di il problema tecnico